Oggi voglio parlare di un fatto che è successo a Roseto degli Abruzzi il 13 di gennaio di questo mese. Questo fatto perché mi interessa e perché penso interessi un po' dal punto di vista proprio civile e politico. A me mi interessa personalmente perché è stata attribuita la cittadinanza onoraria di questa cittadina di 25.000 abitanti che sta in Abruzzo a due carissimi amici miei, lei Giulietta Cascino e lui il marito Eusebio Astiaso. Giulietta io la conosco dal 71, da quando siamo stati catechizzati insieme nella seconda comunità di San Luigi Gonzaga e quindi conosco la sua storia, viene da una famiglia borghese e però i nostri catechisti, Kik e Carmen, hanno avuto una vita molto radicale. Anche Carmen era molto ricca, ha lasciato tutto, insomma, hanno preso il Vangelo sul serio e se uno prende il Vangelo sul serio non c'è altro modo più pieno di senso e di verità che andare a annunciare il Vangelo. Perché che dice il Vangelo, la buona notizia? Che Gesù è risorto, ma questo oggi nessuno lo sa. Ma se Gesù è risorto, accompagna quelli che lo precedono e lo annunciano col suo spirito e il suo spirito che fa? Fa miracoli. Allora, Giulietta, questa mia carissima amica, e il marito Eusebio hanno seguito, diciamo, l'esempio dei fondatori del cammino neocatugomenale. Sono andati senza soldi, senza niente, a annunciare il Vangelo in Abruzzo, nelle Marche e a Malta. Per 50 anni questo, perché da 50 anni è che fanno questo, diciamo, mestiere. Loro sono una famiglia, hanno sette figli e quando giravano i figli se li portavano appresso. Che vuol dire che, che ne so, tre mesi stavano a scuola a Roseto degli Abruzzi e due mesi o tre mesi stavano a Porto San Giorgio, che erano i due centri principali da cui poi si spostavano sempre. Allora, siccome la vita di persone che lasciano tutto per annunciare Gesù è molto particolare e attira le persone, ecco, loro con la loro predicazione hanno attirato una massa di persone. Queste persone hanno avuto, come noi a nostra volta, come Giulietta, come me, come Eusebio, la vita ricreata dalla forza dello Spirito Santo, dalla forza della risurrezione di Gesù. E allora, cosa è successo? È successo che a Roseto, come in tutti i posti dove sono andati, le famiglie non si sono separate, non si sono divorziati. C'è stata un'apertura alla vita perché la parola di Dio è importante, è quella che dà la vita. E la parola di Dio dice chiaramente, col magistero che la accompagna, che gli atti sessuali devono essere aperti alla vita per avere un senso pieno di comunione e di amore. E così i vecchi, i vecchi stanno nelle famiglie, che sono famiglie molto numerose, hanno modo di assistere i vecchi. E così gli abbandonati, i drogati, i mezzi pazzi, la comunità nostra era piena, mia e di Giulietta era piena proprio degli schizofrenici dichiarati. Quindi voglio dire, la società si recrea. Qual è il punto adesso che voglio che voi sappiate? Il punto è che a Roseto, una giunta di centrodestra, ma con l'appoggio di tutti, pure di quelli di centrosinistra, ha appoggiato questa iniziativa di concedere a queste due persone la cittadinanza onoraria, riconoscendo cosa? Riconoscendo che loro hanno fatto, dal punto di vista proprio civile e quindi politico, un'opera grandemente meritoria. Ma questo sì, vale per loro due, vale per il cammino certamente, ma vale anche come segno a noi italiani che un tempo eravamo tutti cattolici e che poi a noi è stata fatta una guerra proprio negli ultimi duecento anni, terribile alla Chiesa, dando a credere a noi cattolici che era bene che fra la vita civile e politica e la vita nostra di comunità ci fosse un abisso. Questo abisso è stato creato ad arte per distruggere la Chiesa. Bene, adesso c'è un'amministrazione comunale che si è accorta nella sua totalità che predicare il Vangelo è un frutto utile, non solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista civile, perché risana la realtà della comunità civile locale. Un evento, veramente un evento. Speriamo che questa inversione di tendenza riguardi sempre più paesi in Italia.